La richiesta di Consiglio Comunale straordinaria e urgente è già pronta. A sottoscriverla sono stati i consiglieri della lista di centrodestra hashtag Montesilvano 2019, capitanata da Anthony Aliano. Il gruppo contesta la decisione della Giunta Maragno di impiegare il centro sportivo Trisi, situato in zona Vestina, come centro di accoglienza per i migranti rifugiati, stessa sorte stabilita anche per l'immobile ex-fea a ridosso di Corso Umberto. Alla delibera del commissario dell'azienda speciale di Montesilvano è seguita quella della Giunta, spiegano i consiglieri comunali, il tutto senza concertazione. Hashtag Montesilvano 2019 quindi richiama l'attenzione sul tema più generale dell'accoglienza che, dicono, ha già compromesso la vocazione turistica della città. Molti alberghi, infatti, hanno riconvertito le loro attività in funzione del ricovero dei migranti. Non solo il progetto Sprar costerà 70.000 euro alla cittadinanza montesilvanese. Costerà 70.000 euro, ma quello in termini di cassa diretti. In maniera indiretta costerà il degrado morale, materiale della città, un centro sportivo che non potrà più essere utilizzato dalla cittadinanza. Io ricordo che vi fanno uso bambini, donne, uomini, anche nelle ore notturne. Il lungomare di Montesilvano è già completamente martoriato da questa esigenza malcelata di far business con il sistema dei migranti. Adesso ci si aggiunge l'ente amministrativo, questo non è proprio consentibile. Noi ci opponiamo a tutti gli effetti, costi quel che costi. A supporto delle posizioni della lista civica comunale è intervenuto anche il capogruppo regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe applicare, innanzitutto si tratta di politiche nazionali, quindi bisognerebbe cambiare il governo dal mio punto di vista e applicare una diversa politica su questo fenomeno. Certamente non è pensabile scaricare da parte dello Stato sui comuni, oltre a tutti i problemi che hanno di bilancio, di manutenzione sociale, anche l'onere di una gestione di un fenomeno così incontrollato. Nel caso specifico della città di Montesilvano, gli alberghi che in questo momento stanno ospitando, secondo me in maniera non più legittima, questi presunti profughi devono essere immediatamente svuotati. C'è continuo.